Ed infine, terzo della prova, il bus H1 di notevole spessore, molto più di quelli di prima. Questo si è rivelato più un'ascia. Che è un coltello diciamo più fine, ancora come vedete taglia la carta, diciamo che è comunque più pesante da utilizzare degli altri, si stanca un po' di più.